Il leone di Guarrato. Così per tutti era conosciuto Bartolo Bellegrino, l'esponente socialista noto per il suo carattere burbero e diretto nella politica così come nella vita privata. L'ex parlamentare si è spento ieri all'ora di pranzo nella sua amata casa di Guarrato, che era diventata un po' il suo eremo ma un po' anche il quartier generale. Bartolo Bellegrino, nato nell'ottobre del 1934, era malato da tempo. Aveva una grave forma di diabete che tuttavia lo ha accompagnato negli ultimi vent'anni della sua vita. La salma è stata trasferita, per chi ha voglia di fargli visita, nella Camera Ardente di Paceco in via San Severino. I funerali invece si trarranno domani mattina nella chiesa madre di Paceco. Diversi gli amici e compagni di partito, oltre a numerosi esponenti della politica in generale, che già da stamattina hanno affollato la Camera Ardente a Paceco. È un momento in cui un giornalista è costretto anche a chiedere dichiarazioni pubbliche a chi ha la morte nel cuore e ha perso un padre, certamente. Però Pino sa benissimo che l'onorevole Bartolo Bellegrino, al di là del fatto che fosse suo papà, rappresenta ancora oggi un personaggio tra i più importanti e tra i più amati di questo territorio. Mi vedo costretto a chiedergli un ricordo, anche se è il momento che me l'ha dato. Sicuramente è stato un simbolo per aver rappresentato questa provincia e anche questa regione. Io ricordo in maniera particolare un giudizio che ha dato un suo amico, che lo ha definito un solista della politica. E' un insegnamento che mi ha dato quello di essere un uomo libero. Ed è un insegnamento che ho cercato anche io nella mia vita di perseguire. Se ne va un grande, un grande sotto tutti i punti di vista, un grande uomo, uno che la politica la vedeva da lontano, sapeva quello che potrebbe succedere tutto. Ma tutti lo vogliono ricordare, un uomo politico è un grande, io lo ricordo come uomo che è stato un grande. Ciao Bartolo. Gianna Millocca, va via forse l'ultimo baluardo, l'ultimo grande della politica trapanese, uno che poteva e ha fatto un po' la politica anche in Sicilia e in Italia. Non è forse l'ultimo baluardo, è l'ultimo baluardo di una politica che era quella del servizio per gli altri. Bartolo è stato veramente il più grande politico della nostra terra. L'ho scritto subito ieri quando ho preso la notizia, io lo conoscevo da ragazzina ed era il mio papà politico, lo consideravo il mio papà politico. E' un grande dolore, è una grande perdita che non è legata all'età delle persone ma a quello che lasciano e lascia tanto in questa terra, davvero. Pellegrino è stato per almeno due lussi uno dei personaggi di spicco della politica siciliana. Dopo l'esperienza nel partito socialista passò fra i diniani di rinnovamento italiano. Nel 1998 fu in maggioranza alla regione del governo capo di casa. Nel 2000 divenne uno degli artefici del cosiddetto contro ribaltone che chiuse l'esperienza del centro-sinistra a Palazzo d'Orleana in Sicilia. Poi nel 2001 fondò la sua creatura, una delle tante, il movimento politico Nuova Sicilia, precursore dei tanti che poi si sono seguiti negli anni nel voto della politica siciliana. Un progetto, quello di Nuova Sicilia, che ebbe anche un buon respiro politico con numeri importanti su tutto lo scalchiere siciliano, tanto da ottenere un assessorato regionale nell'asse di ferro con Gianfranco Miciche che divenne il suo interlocutore politico principale negli ultimi anni di vita politica. Alla regione Bartolo Pellegrino è stato più volte assessore, è stato vicepresidente di Giunta con il primo governo Cuffaro. Pellegrino è stato un visionario, lungimirante, ma anche con una buona dose di realpolitik quando c'era da concretizzare le finalità politiche di un percorso politico. Politica che è stato il suo vero amore di tutta una vita. Tanto che alle soglie degli 85 anni e con una salute ormai calodicante continuava a fantasticare e a progettare un nuovo ragionamento politico. Lo disse anche qui, quando venne ospite nei nostri studi a De Politicum. Per uno come lui, della vecchia scuola, del resto non poteva che essere diversamente. Fu arrestato nel 2007 con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ma venne assolto in tutti i gradi di giudizio. Un uomo che per tratti certamente si può ritenere discutibile, ma che ha rappresentato la visione politica di una Sicilia che voleva alzare la testa.